Quindi possiamo iniziare con la cerimonia di premiazione della quarta edizione della Mitreum Cup è stata una bellissima finale, 8 a 6 la vittoria ai calci di rigore per Futsal SMCV contro Umbio SMCV e quindi ora partiamo con la premiazione e iniziamo ovviamente con il primo riconoscimento chiamo qui Francesco Rosario Di Nardo l'assessore allo sport del comune di San Diego Vedere che dà una targa al gestore della struttura Luciano Fraschini quindi Luciano qui vicino a noi ecco qua e quindi le foto anche di rito da parte di Francesco Di Nardo al gestore della struttura del parco urbano Luciano Fraschini ok ok complimenti a Luciano ok grazie Francesco non ti allontanare adesso chiamo qui invece Aniello Scudieri da ex arbitro ovviamente che viene a premiare quindi l'arbitro Alfonso Mercogliano ecco qui Alfonso Mercogliano insieme a Raffaele Di Magistris sono i due arbitri della finale e dell'intero torneo quindi da arbitro arbitro possiamo dirlo ok poi allora passiamo premio Fireplay qui Rossella Rosmino di Piedesport e lo vediamo anche in maglia premio Fireplay che va a Pasquale Murante per quello che ha svolto durante il torneo è sempre una persona molto corretta molto cordiale e anche comunque è una persona di caratura di spessore complimenti a Pasquale Murante ok per il premio Fireplay andiamo avanti ancora qui Aniello Scudieri che è ancora vicino a me quindi la coppa di capo cannoniere che va ad Alessandro Vigliano di Unio SMCV che purtroppo non c'è quindi chiamo Domenico De Riso a fare la foto perché purtroppo Alessandro non c'è lo ricordo insieme a Paolo De Riggio e a Milano a vedere il concerto dei Coldplay quindi comunque anche lui non sta male ecco qui quindi Alessandro che in questo caso con il premio Domenico che è il presidente della Unio SMCV ok grazie Domenico Rossella Rosmino che torna sì miglior giocatore della quindi quarta edizione miglior giocatore è Luigi Affinito di Unio SMCV grande partita tre tre gol seglati e quindi la foto con Rossella Rosmino quindi Luigi Affinito calcio della Cerana e della Real Aversa complimenti a lui e ora Agnello Scudieri di nuovo vicino a me designato dalla mitra miglior portiere Antonio Asciore di Fult Sala SMCV decisivo anche nella finale quindi ecco la foto Antonio che l'anno scorso non era presente perché era infortunato e quindi si è rifatto alla grande si è rifatto alla grande e ora passiamo quindi dove è l'assessore Francesco Rossello Di Nardo è stato vicino a me quindi al secondo posto arriva Unio SMCV una grandissima finale per loro è un grande torneo poi solamente ai calci di rigore si è fermata la corsa dei ragazzi gialloneri e quindi qui la foto con l'assessore Francesco Rossello Di Nardo per loro poi dopo lo ricordo anche una cena da TripAdvisor e quindi il premio per il secondo classificato e quindi adesso siamo al momento clou chiamo qui Rossella Rosmino si laurea campione della quarta edizione della Miriam Cup Futsal SMCV ed è la seconda volta consecutiva perché anche l'anno scorso ha trionfato quindi foto di rito vediamo un attimo quindi diventa Antonio Sciala che si conferma ed ecco la foto di rito per Futsal SMCV con il premio che è stato effettuato da PR Sport è molto bello sia quello del primo che anche del secondo posto con Rossella che ha premiato e c'è un buono di 500 euro più una cena da Giovanni e la famiglia in loro come premio e quindi siamo arrivati alla fine è stata veramente una bella competizione e concludiamo un attimo con le ultime interviste Antonio vieni qui c'è un attimo no Antonio no non vuole e quindi viene Marra perché ha secato viene qui insieme a me Carmine Marra allora un attimo di stop per la foto facciamo presto vediamo un attimo dopo anche l'intervista a Rossella Rosmino che mi sta aspettando anche Emiliana perché no ok quindi Carmine eccolo qui allora possiamo dirlo un po' man of match della partita per qualche motivo primo gol il suo poi l'ultimo il 5 a 5 nei tempi supplementari e poi anche il primo rigore seglato da sbloccare il ghiaccio allora Carmine una bella partita molto intensa forse forse uno smcv è riuscito a colmare il gap il fatto comunque di non essere giocatori di calcio a 5 sì sì sicuramente noi sapevamo che affrontavamo una squadra che ha molto più ritmo di noi sono tutti ragazzini penso all'età media 21 anni 22 anni quindi avevano più gamba di noi avevano più ritmo noi sapevamo che dovevamo fare la nostra partita con un pizzico di esperienza in più con la difesa forte e bassa e poi magari li colpivamo nei loro punti deboli perché giustamente non giocando questo sport perdevano un po' l'uomo non seguivano però colmavano tutti i loro gap con la grande corsa velocità ritmo e hanno dato tanto in tutto il percorso del torneo e soprattutto anche con l'uomo con l'uomo in meno hanno difeso bene dopo hanno giocato in 5 contatti senza un cambio non si sono mai stancati hanno dato sempre tutto complimenti a loro glielo ho detto è stata una finale bellissima è stata solo una lotteria ai rigori diciamo ci siamo dividiti solo i premi ai rigori ma poi la finale secondo me è finita in un pareggio ultime due domande che ti faccio velocissime era diventato 2 a 0 il primo tempo sembrava anche abbastanza chiusa la partita poi nel secondo tempo tre gol loro e subito è cambiato l'inerzia cosa è successo perché poi dopo lì abbiamo visto una differenza nella ripresa purtroppo noi subiamo sempre questo calo siamo una squadra che è più brava a giocare con la palla siamo bravi a giocare con la palla e a difendere se dobbiamo giocarcela sulla corsa purtroppo abbiamo questi limiti e quindi loro hanno iniziato a correre un po' più di noi e si è visto sono andati in vantaggio però non abbiamo mai mollato abbiamo fatto il portiere di movimento alla fine della partita è stata la giocata giusta e ci ha premiato ultima cosa seconda vittoria consecutiva per Futsal SMCV qui alla Mitromo Cup quindi ora siete i campioni in carica per la seconda volta e ci ha dire anche il fatto che comunque poi una bella organizzazione anche una finale come ormai un mese a questa parte in cui c'è stato un grande divertimento Fireplay e questo è il bello del calcio a 5 e comunque dei tornei estivi sì 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 credo che l'organizzazione sia stata ottima come sempre e se posso dire quest'anno è stata forse la più bella finale di tutte le quattro edizioni e veramente complimenti a tutti all'organizzazione ai partecipanti e mi sono divertito molto di più mi sono divertito tantissimo quest'anno complimenti a tutti ok e quindi ringraziamo Carmine Marra campione con Futsal SMCV siamo andati alla conclusione è stata ormai oltre un'ora e mezza di diretta quindi un ringraziamento avendo a questa partnership tra Sport Caseltano e Mitreum 2018 per l'edizione della Mitreum Cup Armando Serpi alla regia Domenico Bastante alla conduzione e quindi mi raccomando eseguirci sui canali di Sport Caseltano e Mitreum 2018